Allora siamo qui con la professoressa Nella Pinto, direttore artistico della terza edizione di concerti d'estate estate classica qui a Vietri, nel comune di Vietri, appunto questa mattina c'è la conferenza stampa di presentazione di questo evento insieme anche ad altri due eventi, concerti d'estate a Villa Guariglia e premio Albori. Allora professoressa, questa terza edizione di questo importante premio musicale ideato da voi e che sta avendo grande successo anche quest'anno avrà tante personalità del mondo musicale nazionale e internazionale. Sì, salve. Siamo giunti alla terza edizione, terza edizione di una iniziativa nata tre anni fa. L'idea di far nascere una rassegna di musica classica che andasse a valorizzare quelli che sono i talenti, quelli che sono diciamo le eccellenze in campo musicale di musicisti, di ragazzi neodiplomati, per lo più o diplomanti del nostro comune e dare soprattutto loro la possibilità di potersi esibire, di potersi esibire da un pubblico che nel corso di questi anni abbiamo visto sempre più numeroso e soprattutto anche caratterizzato dalla presenza di molti turisti. Il successo di questa terza edizione io credo che viene confermato dai numeri perché noi siamo partiti con dieci partecipanti e siamo giunti a 40 ragazzi perché il gruppo dell'estate classica si è arricchita anche di altri professionisti altrettanto validi provenienti dalle province sia di Salerno che di Avellino, dai conservatori. Dicevo che il numero delle serate in questa prima fase sono sei, abbiamo cinque appuntamenti di musica classica che si svolgeranno nella chiesa dell'Arciconfraternita con un programma distinto in tema e in strumenti musicali. Quali sono i temi e questi temi? Sì praticamente diciamo che ogni serata verrà dedicata a uno strumento praticamente dove i ragazzi si esibiranno sia in un repertorio tipicamente classico o in formazione solistica oppure diciamo dal duo o in gruppo. La serata finale è prevista per il 6 settembre e si terrà tempo permettendo nella villa comunale. Questa sarà una serata il cui programma è dedicato a brani di musica leggera con degli arrangiamenti comunque effettuati dagli stessi ragazzi del gruppo in stile classico. Ovviamente però la novità di quest'anno sta nel fatto che questa rassegna che fin da subito diciamo è a pieno titolo è rientrata in quelle che sono tra le cinque manifestazioni a carattere artistico e culturale più importanti e patrocinate dall'amministrazione comunale dicevo questa rassegna è stata inserita nel progetto approvato e finanziato dalla regione Campania un progetto di cui il comune di Vietra è lente capofila e che vede anche il coinvolgimento di sei comuni della costiera amalfitana per cui i ragazzi dell'estate classica offriranno a sei comuni della costiera amalfitana sei concerti sei concerti per lo più di stile classico si esibiranno degli affermati professionisti che hanno avuto anche modo in altre chermesse di farsi apprezzare anche a livello nazionale volevo ancora aggiungere che i comuni coinvolti i comuni coinvolti saranno questa diciamo questa nuova chermesse inizierà il 20 settembre e andrà avanti per tutto il mese di ottobre e vedrà coinvolti i comuni di Cetara, Maiori, Minori, Atrani, Amalfi e Ravello per concludere voglio ringraziare l'amministrazione comunale che fin da subito ci è stata vicina ci ha sostenuto anche economicamente e ci è dato quindi la possibilità di crescere così rapidamente voglio ringraziare anche i sindaci dei comuni che ci ospitano e quindi che ci daranno la possibilità di farci conoscere anche fuori dal nostro paese è qualificata quella culturale di Vietri sul mare da ben 17 anni ma non solo sì è un'offerta che ruota intorno a 5 eventi importanti che sono concetto di estate a Villa Guariglia il concorso pianistico internazionale, il premio Albori, il premio Vietri ed estate classica offerta che è stata racchiusa quest'anno in un unico progetto progetto finanziato dalla regione Campania grazie all'assessore sommese e all'onorevole Luigi Cobellis per 150.000 euro progetto che ruota intorno ai concerti di estate a Villa Guariglia che è stata alla 17esima edizione perché per poter partecipare a questi fondi europei c'era bisogno di un evento che si celebrasse almeno da un decennio quindi intorno ai concerti di estate, così è il progetto denominato, sono stati fatti gli altri eventi di cui io ho detto prima 150.000 euro messi a disposizione dai fondi Port First 45.000 messi a disposizione dal Comune per integrare la propria quota e quindi avremo un'offerta culturale che è superiore a quella degli anni passati in quanto l'amministrazione si è sempre contraddistinta dalla volontà di incuneare la cultura tra il turismo e la ceramica che sono i due settori economici trainanti del territorio perché il momento culturale per noi è un momento fondamentale, un momento importante in controttendenza con quello che sono gli orientamenti di carattere nazionale e degli enti sovraordinati che fanno dei tagli regolari sia alla cultura che al sociale noi invece in maniera, come dire, in controcorrente cerchiamo di promuovere questi due settori in particolare la cultura perché siamo profondamente convinti che con gli eventi culturali c'è la possibilità di attrarre sul territorio persone di un target leggermente più alto a quello normale ed ordinario perché non sempre ma molto spesso chi si interessa di cultura dal punto di vista economico-sociale è di una certa agiatezza quest'anno è stata classica, premio Vietri e premio Albori che ancora devono essere portati avanti in quanto concorso pianistico e concerti di estate a Villa Guariglia sono già stati fatti ed ultimati l'estate classica avrà la possibilità di andare al di fuori di quello che sono i limiti territoriali del comune di Vietri sul mare in quanto sono previste sei serate nell'ambito di chiese della costiera amalfitana e precisamente accettare a Ravello a Maiori, ad Amalfi, a Trani, a Minori per cui abbiamo queste sei settimane dal 20 di settembre al 14 di ottobre nel corso del 27 di ottobre nel corso delle quali ci sarà questa possibilità di musicisti vietresi di esibirsi al di fuori del proprio territorio comunale il premio Albori è alla decima edizione quest'anno avremo Carla Fracci, avremo Marisa Laurito tra i premiati avremo la Morini e quindi diciamo anche se persone sotto l'aspetto del nome di rilevanza nazionale di una certa importanza, poi ci sarà la presentazione anche di Gigi Marzù invitiamo la cittadinanza a partecipare, invitiamo coloro che sono interessati al premio letterario a venire ad Albori nella giornata di domenica 7 di settembre poi abbiamo il premio Vietri, il premio Vietri che non è ancora messo a punto in quanto non dico ancora il nominativo ma abbiamo una rosa di nomi a cui voler cercare di assegnare il premio Vietri il premio Vietri che è legato ad un articolo della Costituzione nel quale diciamo tra i principi costituzionali il soggetto si è particolarmente distinto negli anni e nella sua attività professionale e quindi gli assegniamo il premio Vietri nell'ambito di questo progetto complessivo poi ci sarà anche il rilancio nuovamente del premio Viaggio attraverso la ceramica che è un premio nazionale e un premio internazionale per opere di ceramisti questo con l'unico fine, tutto il progetto quello di far crescere le immagini di Vietri quello di divulgare il nome di Vietri quello di fare la promozione del territorio vietrese e delle capacità professionali, artigianali ed artistiche di tutto il territorio del comune di cui io ne sono il capo